Ciao a tutti, si può sedurre efficacemente anche se calvi? Beh, intanto diciamo che questo video ve lo faccio soprattutto per me No, sto scherzando, però Allora, diciamo questo, che Allora, sicuramente alle donne i capelli piacciono Bisogna prendere atto della realtà, di ciò che è la realtà Alle donne i capelli piacciono Quindi, a parità di caratteristiche Cioè, prendiamo due esattamente uguali Uno clone dell'altro Solo la differenza che uno con i capelli e uno senza capelli Quello con i capelli ha più probabilità di piacere alle donne Quindi questo è un dato di fatto oggettivo Non dobbiamo nasconderci davanti all'evidenza Le donne i capelli piacciono Soprattutto se ovviamente sono capelli ben curati Se sono capelli magari tenuti bene Insomma, poi ad alcune piacciono più lunghe, più corti Ma, di fatto, a nessuna piace quello calvo in senso assoluto I capelli piacciono Ora, c'è da tenere presente questo, però I capelli piacciono se ci sono Perché la cosa peggiore che si può avere È avere o i capelli radi in testa O ancora peggio avere l'archierica sulla testa E i capelli di lato e sopra niente Perché anch'io se mi facessi crescere di lato e dietro li avrei E nella parte alta che invece non crescono Quindi quella è la cosa peggiore in assoluto Poi altre cose peggiori che ci sono Sono quelle dei vari riporti, insomma, quelle da evitare Se vedi che li perdi, c'è un cavolo da fare È una questione genetica Non andare neanche a farti abbindolare da quelli che dicono Ah, te lo faccio ricrescere, eccetera, eccetera Addirittura ho sentito che ci sono persone che si fanno tatuare Non si fanno tatuare le zone, le zone Ma è una cosa veramente ridicola Anche perché magari da lontano non lo vedi Che è un tatuaggio Ma quando vai da vicino E vedi che quello che si è fatto tatuare I capelli sulla testa Più che un coglione non puoi pensare Insomma, quindi farsi tatuare i capelli Mettersi riportini, parrucchini, cose del genere È molto peggio Tanto vale accettare Bisogna accettare un dato di fatto, no? Oggi la natura funziona così La genetica funziona così Magari un giorno scopriranno il gene Che fa ricrescere i capelli Non lo so E basterà prendere la pastiglia Per avere i capelli che hai richiesto Questo potrebbe essere Non lo so Ma sicuramente oggi se li perdi È meglio che dai un taglio Piuttosto che tenerteli Dei fili radi sulla testa Fateli fuori È molto meglio Ora, poi Per sedurre efficacemente Devi partire comunque dal presupposto Che Quindi, allora Diciamo che Senza capelli È comunque molto meglio Che avere i capelli radi Riportini Parrucche Tatuaggi Così di questo genere Sei molto più seduttivo Perché almeno sei naturale E almeno uno dice Affronti con dignità Il fatto che i capelli Se ne sono andati Che il cuoio Non è più un cuoio capelluto Ma è un cuoio ex capelluto Diciamo così, no? Quindi è importante Questo fatto qua, no? Poi è inutile stare lì Se sei calvo Renditi conto Che hai meno possibilità A parità di caratteristiche Quindi Quello che devi fare È sviluppare maggiormente Le altre caratteristiche Cercare di sviluppare di più Quello che hai dentro la testa Rispetto a quello che hai fuori Non si può più sviluppare Quindi Prendi atto Che esteticamente Sicuramente Hai un handicap Rispetto agli altri Ma che puoi Sopperire Utilizzando la comunicazione Utilizzando La capacità di dare emozioni Utilizzando Le strategie comportamentali Anzi Diciamo questo Che Siccome Parti a svantaggiato Rispetto agli altri Hai più motivazioni A Diciamo A lavorare su te stesso A migliorare la comunicazione A migliorare le capacità Di interagire Con le altre persone Questo È un dato di fatto Perché Sono le difficoltà Che rafforzano Però le difficoltà Devi affrontarle Non puoi stare lì A pensare No Sono calvo Quindi Non ho possibilità Nessuna mi vorrà Perché tutte vogliono Quelli con i capelli Preferiscono Quelli con i capelli È un dato di fatto Ma tu Rafforzati Di altre caratteristiche Non è Che soltanto Quei capelli Si seduce È una Diciamo Da un punto di vista Estetica È una delle caratteristiche Che sicuramente Migliora l'estetica Però puoi migliorarla Anche in altri modi E soprattutto Affrontare La difficoltà Cerchendo di mettere in atto Comunicazioni Più efficaci Cercando di Capire Molto meglio L'altra persona Capire Poi Devi tenere presente Che ci sarà Una percentuale di donne Che mette dei filtri Per cui L'uomo calvo Non lo vuole Assolutamente Quindi Mandali a cagare Siamo in 7 miliardi E mezzo Sulla terra Che ti importa Se è una Non a canirti su quella Ci sono quelle Che mettono i filtri Dicono Uomo calvo Già partono prevenute Mettono delle barriere Appena vedono che se senza capelli Mettono delle barriere E non ne vogliono sapere E quindi Quelle lasciarle perdere Tanto C'è pieno Il mondo Di donne Come dire Quindi Ci sono quelle Che non mettono Queste barriere Quindi quelle Che non mettono Queste barriere Che ti lasciano Comunque Interagire E tu Prova tranquillamente L'interazione Avrai tutte le possibilità Nel frattempo Allena Rafforza Le tue capacità Comunicative Perché un rafforzamento Delle capacità Comunicative Ti dà sicuramente Più chance Magari di uno Cappellone Diciamo così Che però È carente Da un punto di vista Comunicativo È carente Da un punto di vista Emotivo Non sa gestire E strutturare Le emozioni Degli altri Bene Lascia i commenti In questo video E Metti un like Condividilo con i tuoi amici Iscriviti al canale Ci vediamo Nel prossimo video Ciao